Nella cultura antica di tutti i popoli, pronunciare un nome significava possedere quell'oggetto, possedere addirittura quella persona, si diventavano padroni degli altri. Era una cosa fuori ordinanza, fuori ogni controllo, però gli usi erano questi di tutti i popoli antichi. Anche il popolo di Israele divenne schiavo di questo sistema e quindi abbiamo che Dio dà ad Adamo l'incarico di dare il nome a tutti gli animali. Adamo diventa padrone dell'uso degli animali, però nello stesso tempo Dio dice riguardo al suo nome di non pronunziare in vani, inutilmente, il suo nome, Yahweh. E il suo nome era Sagrosanto ed era alla base della lode, della preghiera, dell'amore. La lode al Signore si concretizza non soltanto con le preghiere, direi, ma principalmente con la vita del cristiano nelle sue attività, nel campo della sanità, nel campo della scuola. Ecco, basta dire soltanto questo campo della scuola che necessita di un risveglio, di una presa di coscienza, all'assistenza, agli ammalati, all'amministrazione civica, la cultura. Ecco, sono tutte manifestazioni, ed altro, sono tutte manifestazioni che sono rivolte alla gloria di Dio. rifiutare quanto il profeta Esaia già condannava a suo tempo, cioè i regali, le mance, le tangenti, le ingiustizie, i compromessi. Noi diciamo che oggi la nostra vita è schiava di queste realtà. Molto facilmente si usa la bustarella per far passare un concorso, per far vincere un progetto, eccetera. Il profeta Esaia già condannava questa situazione, che è una situazione di lassismo e di ingiustizia. Il cristiano non ha il compito di sostituirsi alle istituzioni, ma di essere lievito, perché il cittadino venga rispettato nei suoi diritti. Lodare Dio significa non stare alla finestra e stare a guardare. Perché? Perché? Ma scendere in campo e costruire la città dell'uomo. Se noi diamo un rapido sguardo a ciò che ha fatto Padre Pio, vediamo che non è stato solo il sacerdote orante, il sacerdote che celebra la messa, il grande mistico, colui che dava la pace alle coscienze, ma si è reso conto della situazione scabrosa e povera in cui viveva il popolo della zona e si dà da fare per creare lo sviluppo alla società del tempo. Il cristiano, quindi, per avere un'efficacia delle sue azioni, deve avere il contatto continuo con Tio, ma avere sempre gli occhi a terra per vedere le difficoltà della società del tempo.